Il capolavoro da parte di Radonich. Vogliarvi dentro per Raidio, stiappato da Oksilia. Allora, primo richiamo ufficiale per lui, assist per Medenemash, gran stoppata della Virtus. Nel frattempo si è tornati, dal time out c'è la stoppata, c'è il diniego al tentativo di Saccaggi da parte della difesa di Rimini. Ma attenzione perché Pistoia può passare al sorpasso, Wiatol cancellato da Ogbeide. Qui gran palla recuperata di Tassinari che può spingere il contropiede, ancora Johnson palla dentro per Ogbeide. Eeeh, che schiaccia! Bisogna di altare il ritmo, un passaggio no look di Topazini per Aglio che attacca la linea di fondo e la inchioda la schiacciata a una mano. Serie ripinte, attacca, scarica per il rimorso di Guadero che fai 0 e inchioda una mano. Cosa ha fatto il bulgaro? Schiacciatissima! Grazie!